Hola muchachos e benvenuti io sono Wesley e oggi ragazzi siamo qui con il sesto capitolo mi pare di Porla Primera Vi ho fatto vedere nello scorso video la mia MLS Overbug ragazzi è potentissima e la voglio provare appunto scalando questa sesta divisione E ho questo meraviglioso cappellino ragazzi che è un souvenir del Games Week che è stato comunque fantastico E anche se avrei voluto provare molti giochi che non ho potuto provare lì ma fa niente ho preso questo cappellino di Finn E niente dai ragazzi bando alle ciance e ci vediamo alla prima partita Eccoci qua ragazzi alla prima partita vediamo un'argentina completamente argentina con Tevez e la Betsy Non lo so cosa aspettarmi Però noi abbiamo ragazzi l'MLS Overbug Overbug Infatti parte Plata subito Plata Il nano Plata Il nano Plata Il nano Plata Il nano Plata Dopo 1 minuti e 50 secondi ragazzi Cioè questo è un fenomeno ragazzi Plata veramente compratelo E il bambino Plata Parte Plata Plata guardate ragazzi quanto è veloce Guardate 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 ragazzi Ci vogliono 5 giocatori per fermarli Parte adesso Plata un po' in ritardo Plata però ancora E la dà Alonso Che errore Errore Ma 1-2 Plata Plata Partito infatti adesso urtato Urtato No ma no urtato Il bravo Infatti è riuscito Davanti a partire Domanda al bar Domanda al bar Aperci il caffè 2-0 Dai Andiamo più Bravo urtato Bravigno Urtadigno Vento per Plata Plata gliela ruba Plata Plata Donna ragazzi Si sta salvando sto Ragazzo Occhio però Dentro Plata Furtato 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 E' il Tiki Taka è partito E' il Tiki Taka Eccolo lì Plata 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 Boom No Rigore Rigore Boom Dove non si sbaglia mai Questo è tutto ragazzi Vieno Vieno Veramente Il Tiki Taka è recuperato Possiamo partire con il contropiede Ancora non è entrato però Quello qui Plata Ultima azione prima che esce Plata 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 E' ora di uscire Plata Basta Non ne è più Vai Grande palla di Tifo Tifo In mezzo a 2 Dempsey Oh mio Dio Cosa ha parato Agua Agua Finisce così 4-0 Prima partita Primi 3 punti Epica Overbug MLS Ci vediamo ragazzi Alla seconda partita Per i 6 punti Cos'è Non riesco a capire E' un misto Tra Serie A E Premier League Quadrato Gerbigno E Stareg In punta Ma noi Abbiamo Winnie the Po Ti prego Schif Per parere Quadrato Non sa che è qui Oh mio Dio Abbiamo preso il gol Dopo 2 minuti 40 Veramente errore Perché l'avevo già recuperato Con calma ragazzi Questa è tosta Perché è veloce Come rosa Oh Non iniziare Non iniziare Con ste robe Stra Ecco Cosa si è mangiato Ma la difesa Dov'è Dagliela Partito Plata 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 Senta Il numero 10 Joao Plata Elevazione Pazzesca Dentro Jonas Ho visto di orato Cristo Ti piede quadrato Plata 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 Se ne va sulla fascia Plata 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 Entra Plata 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 Mi senti un cazzo alla lingua Di Shot Power C'è Madhu Dentro Non fa uscire il portiere Madonna ha fatto uscire il portiere a rischiare Pegliela lì in velocità a plata A plata A plata A plata A parata A parata A parata Parte adesso Difo 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 Uuuh erroraccio Al 65esimo Erroraccio Difo 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 Cedric Cedric Non te la passo lì Non ci credo Per non fare il passaggio della merda Non avete idea di quanto sto strafferendo Lo vede Lo vede Fallo uscire Ai 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 Non sta roba Ti prego Ti prego Yetlin Parte sulla fascia Yetlin E finisce Ma fa niente Andiamo alla terza partita Allora In cerca dei 9 punti Eccoci qua Terza partita Questa c'è una serie A con palazzo Che è overbug Anche questo Serie A è Premier League Sarà di moda Sarà di moda Vai Plata Che ti ho visto Uuuu Attenzione quasi Plata Non ste cose Uuu Che bomba Che bomba Uuuu Mamma mia Che bomba Palazzo C'è Winnie Mi dispiace Palazzo Forse contro altri ce la fai Ma Winnie No Sì Edlin Ma il suo pallone E ora Qua la può punire Qua è vicinissimo Ai 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 Abbiamo perso Winnie Abbiamo perso Winnie Abbiamo perso Winnie Lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo Dentro Subito dentro Ma subito proprio dentro Defo 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 Vai Defo dagliela Non è Defo Ma chi se ne frega Tensei Torni indietro Tensei Grande Tensei Tagliela Grande giocata Tagli il rosso Tagli il rosso Muogli dal rosso E Mi inchiottato Se ci fai prendere Goggiolo Che ti ammazzo Howard Super Howard Winnie Una sicurezza Lì dietro Fia Dagliela È partito È partito Facile Dovete far così ragazzi Quando siete avanti a partire Raventate Penna più da vicino Tac Rasoterra Gol Finita è finita 3-1 9 punti Va bene ragazzi Io direi Che ci fermiamo qua Per oggi ho fatto 3 partite 9 punti Veramente Ottima Questa divisione Quindi la situazione Come potete vedere Questa qui Il mio storico È buono Niente di che E basta ragazzi Se vi è piaciuto il video Lasciatemi i vostri pollicioni In su Così mi riempito di Entusiasmo Ti ricordo che se Non sei iscritto La prima volta Che stai guardando Questo video Iscriviti Così puoi vedere Tutti i miei video Anche quelli vecchi Se avete qualche suggerimento Per mettere in rosa O fare una rosa Che ne so Turca Qualsiasi cosa Scrivetelo sempre qui nei commenti E noi ci vediamo Al prossimo video Da Wesley Fin Con l'urlo di gloria Puccica Noi bellos amigos Siamo qui Iscriviti E divertiti Con l'osamigo Si verrà Che una risata Ti farai Iscriviti Bravi Iscriviti Wuhuuu Grazie a tutti